Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del corecomo Piemonte. Siamo con Roberto Sardo, presidente dell'AMM il Piemonte, per parlare delle attività dell'Associazione sul territorio regionale e in particolare della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che ricorre nella seconda domenica di ottobre. Presidente, cosa fanno le sedi associative per questa giornata? Questa manifestazione vede le nostre sedi territoriali attivarsi al fine di promuovere iniziative in cui vengono coinvolti soci, familiari e soprattutto le istituzioni e gli addetti ai lavori. Non vuole essere solo una giornata di commemorazione, ma vuole essere una giornata per attirare l'attenzione e mantenere l'attenzione sempre viva sul problema degli incidenti sul lavoro. Presidente, questa giornata, oltre che a parlare di tutela delle vittime del lavoro, parla in realtà anche di un tema che riguarda la prevenzione, cioè come evitare questi infortuni. Perché stando ai dati INAIL, il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel 2022 è cresciuto enormemente rispetto al 2021. Parliamo di un aumento nazionale delle denunce di infortuni superiore al 25% e il Piemonte non fa differenza. Quindi è necessario impostare una nuova politica per la prevenzione degli infortuni e ragionare in modo totalmente nuovo e diverso. Tra le tante iniziative a tale proposito che svolge l'associazione c'è anche quella di portare la testimonianza dei soci e delle persone che hanno avuto un infortunio sul lavoro all'interno delle scuole e delle aziende. Ci può dire con maggiori dettagli cosa fa l'associazione in questo caso? Da diversi anni ci facciamo promotori di un modo un po' innovativo di approccio alla formazione in materia di prevenzione. Infatti, sebbene da oltre più di vent'anni ci richiamo nelle scuole e nelle aziende a portare le nostre testimonianze, nel tempo abbiamo capito che questa importante ed è molto apprezzata attività necessitava di essere leggermente migliorata. Per questo abbiamo voluto creare una scuola della testimonianza dove vengono formati i nostri soci volontari al fine di rendere sempre più efficace ed impatto il racconto che viene fatto delle nostre vicende e di ciò che ci è accaduto in modo da evitare che ciò accada anche a loro, agli operai e agli studenti delle scuole. Presidente, oltre a questa attività meritoria della testimonianza nelle scuole e nelle aziende, però in effetti le sedi associative in tutte le città del Piemonte offrono accoglienza, supporto e assistenza a tutti o soltanto agli associati? Le nostre sedi sono aperte a tutti, a tutti coloro che necessitano di una nostra consulenza. Noi abbiamo dei professionisti qualificati a cui ci si può appoggiare per qualsiasi problema e soprattutto tuteliamo i nostri iscritti, anche quelli colpiti da malattie professionali, in modo da risolvere i loro problemi amministrativi. Quindi Presidente, c'è una forte attenzione innanzitutto con la vicinanza e l'accoglienza perché spesso chi subisce un infortunio sul lavoro o si trova a contrarre una malattia professionale teme di non avere supporti sufficienti e soprattutto non sa a chi rivolgersi. Invece all'interno dell'associazione c'è una grande famiglia pronta a dare innanzitutto solidarietà e supporto, ma anche assistenza fino a ritrovare un posto di lavoro. Ecco, in tutte queste attività chiunque è interessato può avvicinarsi all'associazione sia per svolgere un'attività di volontariato, sia per rendersi disponibile per le testimonianze all'interno delle aziende e l'associazione resta a disposizione anche per incontri nelle scuole. Quindi chiunque è interessato può contattare l'ANMIL attraverso il numero verde 800-180943 o consultare il sito www.anmil.it. Grazie Presidente. Grazie a voi. Benvenuti a questa trasmissione sull'accesso. Io sono Deborah Bocchiardo, sono il direttore del quadrimestrale Occhi Aperti dell'associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti. Come direttore, ma anche come collaboratrice dell'associazione, ho seguito nell'ultimo anno e mezzo il progetto di accessibilità ai luoghi di cultura tramite dei pannelli tattili. Un bel progetto che era stato finanziato dalla Regione Piemonte che prevede la realizzazione di supporti in materiale resistente agli eventi atmosferici di dimensione pressa poco di 70x70 centimetri. I pannelli possono essere esposti nei luoghi all'aperto o comunque nei pressi dei punti di interesse dei siti individuati dagli enti, associazioni o amministrazioni che decidono di farne richiesta. e sopra il pannello, oltre a una descrizione in nero, ovvero con caratteri normali quindi accessibili a tutti i vedenti, c'è la scritta in braille attraverso una pellicola trasparente che viene apposta in un secondo tempo sul pannello e un disegno sia in nero, come si dice, sia in rilievo in modo da poter essere tattile. Il pannello è uno strumento quindi utile sia a chi non vede per poter capire a che cosa si trova di fronte, che cos'è quel sito, quella chiesa, quel percorso ma anche utile a chi vede perché oltre a una grafica appunto accessibile da un punto di vista tattile sono presenti informazioni per i vedenti, quindi per tutti e anche un QR code al quale si accede attraverso la normalissima app e che permette di visualizzare un filmato di approfondimento con un audio di accompagnamento. Una bella idea quindi che permette a tutti di accedere ai luoghi di cultura e di scoprire anche delle vere perle sul territorio del Piemonte per adesso ma stiamo pensando come associazione pro-retinopatici povedenti con sedi ormai in tutta Italia di allargarci anche ad altre regioni. Quindi di accedere a tutti i luoghi, dicevo, in modo da permettere di scoprire anche piccole chiese, piccoli percorsi, parchi itinerari di tutto il Piemonte, anche dei paesi più piccoli. È facile entrare in contatto con questa iniziativa, basta contattare l'associazione attraverso il sito. Come sono questi pannelli? Non sono soltanto pannelli dedicati a grandi castelli, a importanti parchi o monumenti famosi, sono pannelli che permettono di scoprire anche delle piccole curiosità sul territorio del Piemonte. Parlo per esempio degli anfibi di Varisella e devo dire, da un punto di vista grafico, non è stato semplice rendere le differenze tra i diversi esemplari del parco. Parlo per esempio del percorso dei quadri di Torre Canavese piuttosto che della passeggiata delle fontane. Il progetto continua, in questi mesi ci stiamo occupando dei punti di interesse del Cuneese, in particolare Cuneo, Mondovì e Monasterolo di Savigliano. L'avventura dunque continua, io vi invito a contattarci per arricchire sempre di più questa rete di pannelli per l'accessibilità ai luoghi di cultura e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti, qualche giorno fa in azienda mi hanno chiamato dall'ufficio personale e mi hanno comunicato ufficialmente che ho raggiunto i requisiti per andare in pensione, quando voglio, oppure posso anche richiedere di lavorare ancora per qualche anno perché a quanto pare non hanno nessuno per sostituirmi in questo momento. Sono sceso in ufficio, l'ho comunicato ai miei colleghi, mi hanno fatto un'ovazione, festeggiamenti, ma come sei fortunato, ma che bello, ma te ne vai in pensione, non ti vedremo più, ma come sei fortunato. Poi, un po' dopo, ho parlato con un mio collega con cui ho un rapporto d'amicizia più stretto e gli ho espresso le mie perplessità. Sì, va bene andare in pensione, ma la pensione è un cambiamento radicale di vita che si fa a un'età in cui i cambiamenti sono piuttosto lenti e faticosi, per cui ho qualche perplessità. Mi ha salito, ma non devi pensare queste cose, ma cosa vai a pensare? Tu devi pensare a quanto sei fortunato, che sarai padrone del tuo tempo, sarai libero, eccetera. Sì, sarò padrone del mio tempo, ma che cosa ne faccio? Io non ho dormito di notte a pensare a che cosa fare del mio tempo libero. Poi, nei giorni passati, ho parlato con i miei amici, i miei conoscenti, i parenti, e mi hanno subissato di consigli. Tutti sanno che cosa farebbero, che cosa dovrebbero fare, cosa dovrei fare io, cosa farebbero loro al mio posto. Posso andare a abitare al mare? A me non piace il mare, l'inverno è un montorio, d'estate c'è troppo casino. Posso andare a funghi? Mai andato a funghi. Puoi andare a pescare? Mi piacciono i pesci, ma andare a pescare non ci penso neanche. Insomma, mi hanno riempito di consigli. L'unico che non sa che cosa fare sono io, e sono veramente perplesso. Mi sento un imbecille, mi fanno sentire un idiota. Mi ricordo quando ero più giovane che avevo paura di volare, avevo paura di prendere gli aerei, e lo dovevo prendere per lavoro sovente. E quando lo diceva qualcuno, anche lì, mi tranquillizzavano. Ma cosa doveva pensare? Ma l'aereo è il mezzo più sicuro che ci sia, ma per carità. Sì, va bene, ma allora sono un imbecille io che ho paura di volare. Ma è mai possibile che non ti possano ascoltare le persone? Tutti parlano di ascoltare, ascoltare i genitori, ascoltare i figli, ascoltare tutti. Ma questi nessuno mi ascolta, sono tutti dannatamente interessati al mio problema. Nessuno ascolta me, ma il problema è una situazione che si può ripetere anche mille volte. Ma che cosa la fa diversa? Sono le emozioni, come uno la vive. Come uno ci mette le paure, ci mette la contentezza, ci mette la gioia, ci mette il dolore, ci mette l'ansia, ci mette un sacco di cose. Diventa una cosa unica. E questi ascoltano il problema. Ma sanno tutti, ti riempiono di consigli, e tutti per il tuo bene. Ma sanno qual è il mio bene? Ma loro sanno qual è il loro bene? E parlano del mio bene? Cioè, davvero, ma io dove sono? Mi sento abbandonato. Vorrei davvero essere rispettato per come sono io. Ma è come se qualcuno mi dicesse che ha paura di morire. E io gli dico, ma figurati, muoiono tutti. Ce la farei anche tu, no? Aveva ragione De Andrei, quando si muore, si muore soli. Ma no, è così difficile rispettare una persona per quello che è. Che mi possano vedere per come sono, per come vivo questo momento. Che vedano che io non dormo di notte. Credo che chiamerò il telefono amico. È un numero facile anche, 02 99 777. C'è anche un portale amico. Si può chattare se si vuole. Buongiorno, sono Bruno Mellano, sono il garante detenuti della regione Piemonte. Gli amici dell'Associazione Internazionale Nessuno Tocchi Caino, Spes Contra Spem, mi ha chiesto di fare questo intervento nelle tribune della RAI per poter affrontare un tema quanto mai difficile e, diciamo, tragico. La questione dei suicidi in carcere. Nessuno Tocchi Caino ha uno slogan che è la sintesi del lavoro fatto in questi decenni di lavoro internazionale e nazionale sulla questione dei diritti. È un'associazione che si occupa contro la pena di morte, contro la pena fino alla morte, contro la morte per pena. Quindi sulle esecuzioni capitali contro la pena di morte, ma anche contro un carcere che a livello internazionale è spesso presente, che porta alla morte i detenuti e che tiene i detenuti in carcere senza speranza fino alla morte. Alcuni di questi aspetti riguardano però anche l'Italia, il famoso dibattito sul carcere ostativo, sull'ergastolo ostativo e il fine pena mai, ma anche un carcere che è in grande difficoltà nel prendersi in carico i detenuti dal punto di vista della salute e quindi del benessere psicofisico delle persone trattenute. Un grido di allarme davvero tragico è stato quello dell'ultimo anno. Il 2022 ha fatto registrare il record assoluto in numeri e in percentuali rispetto ai detenuti che si sono suicidati nelle carceri italiane. 189 carceri abbiamo avuto nei 12 mesi del 2022, 84 e poi il garante nazionale ha corretto 85 detenuti che si sono tolti la vita, in gran parte per impiccamento, in alcuni casi per soffocamento, usando delle borse di nylon e il gas che serve per cucinarsi il caffè o la pasta asciutta. Un grido di allarme davvero molto alto. Dal 2000, quando c'è una meritoria azione messa in campo dalla rivista Ristretti Orizzonti, che è curata nel carcere di Padova, che monitora e conteggia il numero dei suicidi o delle morti non chiare nelle carceri italiane, abbiamo registrato oltre 1250 persone che si sono tolte la vita e, ripeto, in un anno come il 2022, con una presenza di 56.000 detenuti, abbiamo avuto il record assoluto, più alto ancora di quando qualche anno fa, dieci anni fa, avevamo 67.000 detenuti e i suicidi sono stati attorno al cinquantino, al sessantino. Allora è un grido di disperazione, un grido di mancanza di speranza, mancanza di fiducia nel costruire dei percorsi diversi. Spess contra spam è lo slogan di nessuno tocchicaino, essere speranza contro la vera speranza. Il suicidio in carcere è davvero l'estremo atto di disperazione contro tutto e contro tutti di chi non vede nel percorso esistenziale esiti diversi. E questi esiti diversi sono magari a volte nel trauma iniziale della detenzione, ma paradossalmente anche spesso e volentieri, nella fase finale della detenzione, quindi quando si dovrebbe cominciare a pensare all'uscita, ai rapporti lasciati fuori e alla difficoltà del reingresso lavorativo e sociale nella società. Le istituzioni, anche la Regione Piemonte, i comuni, il volontariato, è chiamato da una circolare del Ministero a fare la propria parte, nel monitorare, andando in carcere, le situazioni tragiche e gli elementi che possono far intercettare il disagio. Questo implica che non possiamo lasciare soli né i detenuti né gli operatori e in un dialogo franco ma stretto fra istituzioni prendersi in carico di quei 4.000 detenuti che sono in questo momento in Piemonte, dei 56.000 che sono in tutta Italia e superare la disattenzione che il mondo del carcere ha da sempre nella società. Grazie a risentirci. Ben trovati, sono Maria Grazia Lussiana, volontaria dell'Associazione F94.0, un'associazione no profit nata a Torino che si occupa di mutismo selettivo. Il mutismo selettivo è un disturbo psicologico legato all'ansia che, se non trattato opportunamente, può arrivare fino all'adolescenza. I bambini e i ragazzi con questo disturbo non scelgono di non parlare, semplicemente non riescono a farlo per un forte senso di ansia che percepiscono nei contesti sociali, come per esempio la scuola, mentre a casa, in famiglia, nelle loro zone di comfort, sono dei grandi chiacchieroni. Una volta fuori, però, se una persona rivolge loro una domanda, loro non riescono a rispondere, si bloccano, si congelano e nella maggior parte dei casi non riescono nemmeno a mantenere un contatto visivo. Riconoscere un bambino col mutismo selettivo non è cosa facile perché questo viene spesso confuso con una forte timidezza. Si è portati a pensare che comunque abbia un atteggiamento positivo nei confronti degli altri. Questi errori di valutazione portano a sottovalutare il problema o, peggio, a trattarlo in modo non corretto. Per questo è importante, quando c'è la sensazione che ci sia questo problema nell'aria, iniziare a trattarlo tempestivamente in modo corretto. I bambini con mutismo selettivo, come detto, sono bambini ipersensibili, emotivamente fragili e ricettivi, che vorrebbero parlare ma non ci riescono. Con la nostra attività noi intendiamo diffondere la conoscenza del mutismo selettivo, aiutare i genitori che si trovano ad affrontare questo problema, supportare gli insegnanti perché gestiscano il problema nelle loro classi. Ai genitori che si rivolgono alla nostra associazione, noi diamo un messaggio di incoraggiamento, cerchiamo di infondere loro filucia, facendo anche degli incontri tra famiglie, famiglie che hanno il problema del mutismo selettivo e famiglie che lo hanno risolto. Perché comunque il mutismo selettivo è una situazione transitoria che ha comunque una risoluzione. Per quanto riguarda invece le scuole, il luogo in cui emerge il problema e dove l'ansia raggiunge i picchi maggiori, il silenzio del bambino è solamente un sintomo. Appena si apprende questa sua difficoltà, è bene comunque iniziare un percorso con personale esperto per evitare che la parola alimenti le sue insicurezze e i suoi stati d'ansia. A questo proposito, l'associazione F94.0 realizza dei laboratori nelle scuole con dei bambini, con i bambini, condividendo strategie di intervento con gli insegnanti per permettere ai compagni di classe di rapportarsi nel modo corretto con questi bambini molto sensibili. Le nostre attività comprendono seminari e conveni, come il convegno nazionale che si terrà il 6 maggio, uno sportello informativo gratuito per insegnanti e genitori, incontri di sostegno per i genitori, percorsi formativi sul mutismo selettivo per insegnanti, un centro di documentazione con banca dati, articoli scientifici e monografie in collaborazione con l'Università di Torino, laboratori psicoeducativi nelle scuole. Ricapitolando, la nostra associazione offre supporto sia ai genitori che convivono con questa difficoltà, sia ai docenti che si trovano a gestire questo problema nelle loro classi, mettendo a disposizione specifici materiali e consulenze gratuite che possono essere richieste tramite i nostri canali, che possono telefono, mail o il nostro sito internet mutismoselettivo.it, dove peraltro si possono trovare tutte le informazioni, sia sul disturbo che sul modo di contattarci. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione! I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale.it, Grazie!